La signora Stoppa Juliana Moreira, oggi sono la signora Stoppa VinZuiden Juliana Moreira dal 10 novembre è la signora Stoppa. La showgirl brasiliana racconta le sue nozze in esclusiva a Verissimo, Mi sono sposata dopo dieci anni con Edoardo Stoppa, l'inviato speciale di Striscia la notizia. Quando ci siamo conosciuti lui era già cotto di me, ci siamo incontrati in un locale e lui parlava bene portoghese, siamo stati a chiacchierare tutta la sera. E quando Silvia Toffanin le chiede del primo bacio, lei risponde, dopo che siamo stati un'ora al telefono mentre lui era in viaggio in Spagna, abbiamo capito che c'era del feeling. Quando è rientrato, ci siamo visiti ed Edo ha chiesto prima al mio cagnolino il permesso e poi ci siamo baciati. La showgirl ricorda poi di come ha ricevuto la proposta ben sei anni fa, eravamo in vacanza a New York ma io stavo male, lui mi ha portato su un grattacielo e dopo avermi convinta ad uscire fuori mi ha fatto la proposta inginocchiandosi e io invece di rispondere in maniera carina, gli ho detto, ma mi viene da vomitare. L'amoreira ha poi raccontato di come abbia organizzato il matrimonio in un mese e mezzo, dopo le insistenze della loro figlioletta Loa. Alla fine del video servizio firmato da Gabriele Parpiglia, Giuliana e Silvia si commuovono, mio papà ha realizzato il suo sogno di portarmi all'altare e sono sicura che a mia mamma Edoardo sarebbe piaciuto, ha sottolineato emozionata la showgirl. Alla fine del video servizio firmato da Gabriele Parpiglia, Giuliana e Silvia, Giuliana e Silvia, Giuliana e Silvia, Giuliana e Silvia.